Madonna mia mi sento mi sento un po giù vedete questa faccia mi sento male è probabile che debba andare dal dottore e il dottore io ci sono andato dal dottore mi ha detto devi prendere degli integratori spec gli integratori un po di ferro un po di piombo un po d'acciaio un po di sali minerali e pepi minerali tutti e due i sali e i pepi minerali gli integratori devi integrare se no che ho detto ma perché devo integrare che cosa c'è che non va nella mia alimentazione c'è qualcosa che non va mangio tutto proteine vitamine c'è tutto nella mia alimentazione ma si si vede che il tuo corpo ha bisogno di qualche qualche cosa in più io mi ricordo quando ci sentivamo un po spossati un po quando eravamo piccoli oddio ma mi sento un po strano ma si sarà un po di influenzetta hai preso un po di freddo fai una cosa vatta a dormi vai a dormire e uno andava a letto si riposava una giornata la mattina già ti sentivi più carico perché magari avevi affrontato la scuola per i bambini oppure troppo lavoro per i grandi e ci si curava con il riposo il riposo era rigenerante ti rigenerava il corpo stava fermo tutti i sali e pepi minerali circolavano tranquillamente senza che il corpo si stressava quindi andavano a ripristinare tutta la situazione come una bilancia sbilanciata no invece tutti riposati e stare a posto ma oggi ci sono questi integratori che ti integrano sono approvati dall'associazione medici nazisti italiani là come si dice ah medici vabbè non mi ricordo e quell'associazione diciamo tutte queste associazioni che coi medici non hanno neanche a che vedere a quanto pare perché ho fatto delle ricerche correggetemi se sbaglio ma di queste associazioni ce ne stanno una 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 fracca di questa associazione una marea e quindi ci sono questi integratori ma adesso la domanda sorge spontanea per esempio l'integratore di di proteine ma come lo fanno sono degli estratti del latte fatti in un certo modo chimico estratti le vitamine estratti di queste queste sostanze vitaminiche c'è uno si deve mangiare sta roba secondo lui poi una volta mangiata sta roba sta bene quando al tempo bastava andarsi a fare una bella dormita dormire un giorno ma anche due giorni via di due giorni da ferie e dicevi oh non me rompete il bip e te sdrai a te riposavi te riposavi te riposavi ti prendevi la tua parentesi a svegliavi fresco come una rosa adesso ci stanno gli integratori che integrano quello per la palestra quello per la che ti devo dire la cosa la corsa quello per il lavoro e quello per la mente quello per i muscoli quello per il vabbè lasciamo stare ma come si fa ma come si fa andate a dormire andate a dormire riposate perché uno si sveglia la mattina alle sette se prepara se lava se veste va al lavoro in mezzo a quello stronzo del capo quei imbeciilli dei colleghi che ti ti stressano poi vai vai in mensa e mangi e poi che cosa mangi poi ritorni al lavoro a lei imbeciilli e in idioti da tutte le parti poi vai a casa mangi vuoi uscire o vuoi vedere la tv non ce la fai vai a dormire a mezzanotte ma alle sei alle sette della mattina devi rialzare manca il sonno manca il sonno annatevi a dormire altro che integratori annatevi a dormire riposate tranquillizzatevi e vedrete che la vita vi sorriderà vi sorriderà breve video per darvi questo breve ma grande consiglio annatevi a riposate altro che integratori spettro maledicto